È stato definito il subemendamento bavaio, la firma è di Camillo D'Alessandro. Nel documento si legge modifica del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Il tema è quello degli emendamenti. Se la Giunta ravvisa motivi di urgenza e necessità di un'approvazione celere, ha facoltà di proporre a sua volta uno o più emendamenti d'urgenza che annullino tutti quelli presentati. Una vera lotta all'ostruzionismo, secondo il Governatore D'Alfonso. Una norma che induce al comportamento migliore possibile da parte di tutti. Io sono convinto che non ci sarà bisogno di usarla. Certo, in passato troppe volte il Consiglio regionale è apparsa un luogo di produzione di pozzanghere. Oggi noi ci siamo dotati di una norma che è capace di rieducare i comportamenti peggiori, quelli dei 2000 emendamenti. Come funzionerà questo blocco degli emendamenti? Che quando è necessario e solo quando è necessario noi inviteremo ad un gentleman agreement anche le opposizioni e se ci sono scadenze, urgenze, noi possiamo disporre anche di una norma che ci consente di evidenziare l'urgenza. Se la proposta del famigerato emendamento d'urgenza ha subito surriscaldato gli animi dell'opposizione, il consigliere D'Alessandro aveva subito tranquillizzato dicendo di aver preso spunto dalla Regione Piemonte che nell'articolo 76 parla di dichiarazioni d'urgenza. Ma come spiega Cerbo con qualche piccola differenza. Il regolamento della Regione Piemonte prevede che ci siano delle dichiarazioni di urgenza per cui in determinati casi si dimezzino i tempi dei lavori. Cioè se tu puoi parlare tot, secondo regolamento parli la metà del tempo. Ma questo va bene, è una cosa corretta. Ci possono essere momenti di urgenza per cui devi avere una procedura legislativa accelerata. Altra cosa, cancellare la possibilità di fare opposizione o portare delle proposte alternative al reuccio, al ras della Regione, all'esame del Consiglio regionale e farle votare da un'assemblea sovrana. Perché un uomo solo al comando l'abbiamo già avuto una volta e ci ha lasciato un Paese in rovina. Io non vorrei che accadesse questo anche per la nostra Regione.